Io credo che stiamo andando verso veramente un abisso allucinante perché purtroppo far diventare business, far diventare ideologia persone che sono nate anche con alcune differenze rispetto alla media, la normalità, chiamiamola così, anche se poi adesso bisogna pensare tutti i termini e quindi integrarle in un modo normale come è sempre accaduto. Invece adesso c'è addirittura la moda di farci diventare tutti in un certo modo, ma c'è un disegno secondo te Diego dietro tutto questo? Il responsabile filosofico, ma senza colpe perché per fortuna non ha visto la contemporaneità di questo declino, se vogliamo chiamarlo così, lo individuerei in Nietzsche nella sua teoria dell'oltreuomo secondo cui occorre rovesciare tutti i valori per porre al centro la volontà di potenza che senza limiti si autoafferma. Questo è il principio che oggi si determina in tutte le cose che avete giustamente evidenziato, cioè il fatto che l'individuo pensa senza limiti di poter sovranamente decidere secondo il proprio capriccio e anzi concepisce la libertà come superamento di ogni limite morale, etico, religioso e quant'altro. Mi piace ricordare a questo riguardo, forse con una nota di speranza e di opposizione all'entinato, che oggi è la pezza del papà. Non so se l'avete già ricordato in precedenza. No, ancora no, ancora no, ma lo facciamo adesso. Ecco, la figura del padre è che in qualche modo è fondamentale naturalmente. Nel mondo arcobalenico e transgender non ci sono più padri e matri. Viene meno la funzione generativa della sessualità, resta il capriccio dell'individuo che decide di essere cosa vuole essere. Noi dobbiamo forse ripartire proprio da due figure così semplici, immediate, come quella del padre e della madre, per contrastare questa deriva. Il padre che è il simbolo della legge, il simbolo della nostra identità e della nostra provenienza. I greci, che erano infinitamente più saggi rispetto ai postmoderni, usavano il patronimico. Chi sei tu? Sono Odisseo, figlio di Laerte. Chi sei tu? Sono Socrate, figlio di Sopronisco e così via. Se perdiamo il principio del padre e anche della madre, naturalmente perdiamo il principio di identità e cadiamo nell'indistinzione conformistica nella quale ci troviamo, in cui l'individuo capriccioso pensa di poterli limiti essere tutto ciò che vuole essere e percepisce come dolo, come violenza, come discriminazione ogni limite ancora sussistente, compresi quelli che la natura, torto a ragione, ha posto in essere. Diego dice, insomma, questo è lo scenario, è lo scenario chiaro un po' drammatico, cioè inquietante, almeno per noi. Voglio, prima delle tue conclusioni, raccontare un breve aneddoto che ho vissuto ieri, proprio per dire che vorrebbero che non ci fossero le differenze tra uomo, donna, vogliono togliere anche il piacere di avere ognuno di noi le proprie attitudini naturali, che ci siano differenze, è evidente, questo non significa che ci sono migliori e peggiori, significa che anzi la bellezza è proprio la differenza di attitudine. Guardate, racconto questo aneddoto, ieri ero alla laurea di mio figlio Giampiero, che saluto, bravo, insomma gli faccio i miei complimenti, grazie, si è laureato ieri, in informatica, quindi eravamo lì alla facoltà di ingegneria e quindi c'era l'ingegneria in generale, ma poi l'informatica in modo particolare. Abbiamo visto che tutti i laureandi erano maschi, erano uomini, erano ragazzi, una soltanto, erano soltanto, quindi su una ventina di persone soltanto una. Perché? Perché in quella facoltà chiaramente c'è una stragrande maggioranza di uomini che hanno l'attitudine all'informatica, poi ci sono anche delle ragazze, ma in percentuale enormemente migliore. Se andiamo invece alla facoltà di lettere, dove si è laureata un'altra mia figlia, lì la percentuale si inverte radicalmente. E allora vediamo che esistono le attitudini, perché naturalmente i ragazzi vanno a scegliere delle facoltà per la loro vita, per il loro futuro, in base alle loro attitudini. Martina, ma non è bello questo, che ci siano delle attitudini? E ieri ne discutevamo anche con delle persone, mentre attendevamo i nostri figli che finivano la loro discussione delle tesi, parlavamo proprio di questo. Sono molti maschi. Poi parlavamo della scuola pubblica, perché parliamo dell'Università della Sapienza, quindi della scuola pubblica che deve riacquisire un ruolo dove le lauree non sono quelle che tu paghi un tot al chilo. Dove ci sono le lauree vere. Io ricordo mio figlio ogni tanto veniva da me con le lacrime agli occhi perché aveva problemi, il professore mi ha fatto questo, ha chiesto quest'altro. Dico, beh, devi affrontare, devi superare, devi essere più brava addirittura di lui, così si forma sia la formazione professionale che anche quella morale. Quindi la scuola pubblica, anche ti insegna questo, ho approfittato di questi due minuti per mandare questo messaggio. Riprendiamoci la scuola pubblica, quella importante, dove magari devi sgomitare, qualche pugno lo prendi, qualcuno lo dai, però poi alla fine esci più uomo, secondo me più donna, esci migliore. Ecco, Martina, le attitudini, i generi, da non confondere con la parola gender, sono la meraviglia della nostra vita. Ci piacciamo perché siamo diversi, se fossimo tutti uguali, robotizzati come loro vorrebbero, forse non ci piaceremmo più, perderemmo delle emozioni fondamentali per la nostra vita, per la crescita, lo sviluppo dell'uomo, Martina. Le differenze sono una ricchezza, non sono un problema. Esatto. L'uguaglianza non è equivalenza. Il talento che ciascuno di noi ha, io il mio, tu il tuo, Francesco il suo, è qualche cosa che dice anche la unicità che ciascuno di noi è, che ogni persona con la P maiuscola è. E quindi la sua dignità, la sua intoccabilità, la sua preziosità, guardatevi intorno e vedrete che è quello che si vuole abbattere. E infatti, per ricollegarmi a quello che diceva Fusaro poco fa, qui è chiaro che è in atto una anticreazione dell'uomo. Una anticreazione. L'uomo creato libero, creato prezioso, creato per me, che credo, ha immagini e somiglianze di Dio, e questo dice la sua intangibilità, la sua intoccabilità e la sua preziosità, adesso diventa uomo massa, uguale uno all'altro, senza prerogative, senza differenze, diventa tutto uguale, tutto scolorito. E' come se perdessimo i colori in questo mondo che ci stanno disegnando. E che naturalmente disegnano per noi, attenzione, perché chi tiene in mano la matita, invece, riserva per sé e per, diciamo, una oligarchia sociale che è visibile oggi, è proprio visibile, la vediamo, è quella che si incontra a Davos, è quella che fa le cose che a noi vengono negate, è quella che si può permettere di girare col jet fregandosene si inquina, mentre a noi viene detto che dobbiamo rottamare la macchina perché sennò ammazziamo il pianeta. Quindi è tutto un discorso che si tiene. Tutti questi temi vengono usati per distruggere l'uomo. E c'è poco da fare. E allora, che cosa dobbiamo fare noi? Beh, difenderci e impedire che questo accada. Esserne consapevoli e muoversi di conseguenza. E sollecitare le coscienze, le persone, a fare un ragionamento proprio, ad avere senso critico. Noi non vi diamo la verità, noi non vi diciamo qual è la verità, perché non ce l'abbiamo neanche noi, non ce l'avremo mai, ma vi diciamo, pensate, non accettate passivamente quello che vi viene propinato.